Buongiorno a tutti i telespettatori, siamo in compagnia di Maurizio Castellani, sindaco di San Zeno di Montagna. Buongiorno sindaco. Sì, buongiorno, buongiorno a tutti voi. Ecco, allora iniziamo parlando del comune di San Zeno di Montagna, insomma dove si trova geograficamente, qual è l'attività prevalente, quanti sono gli abitanti. Sì, San Zeno di Montagna è un balcone sul lago di Garda, ben conosciuto dai veronesi, ben conosciuto anche da tanti stranieri, è frequentato, ecco, in questi anni è aumentata la presenza anche di un turismo straniero, grazie anche alle promozioni del nostro comune, un comune che appunto occupa diciamo 1.400 residenti, però in estate con la presenza tra seconde case e attività turistica, che è l'attività principale del nostro territorio, una volta era l'agricoltura che è stata soppiantata dal turismo e quella poca agricoltura che è rimasta è complementare al turismo. Abbiamo 1.400 abitanti e arriviamo a circa 12-13 mila, facciamo circa 200 mila presenze, quindi lei ben capisce come il turismo dalle nostre parti è importantissimo. Parlando della fase 2 di riapertura, insomma, avete dei progetti in cantiere per questa seconda parte del 2020 anche per l'estate? Sì, nonostante queste incertezze nelle risorse, insomma essendo un paese turistico, quindi era giusto anche parlare del nostro paese, quindi parlare del nostro comune. E qualcosa stiamo facendo, stiamo mettendo in piedi un servizio molto importante, con un servizio di promozione, con un servizio con un drone, con un'intervista alle attività tipiche del nostro territorio, dall'agricoltura, al turismo, al commercio, quindi faremo un video che uscirà fra dieci giorni. Quindi poi abbiamo intenzione di fare qualche manifestazione, soprattutto dopo il 31 luglio, perché fino al 31 luglio c'è l'emergenza, quindi ecco, a certe attività è difficile farle. Comunque abbiamo messo a disposizione, poi facciamo l'asilo nido, cioè il GREST, diciamo meglio, il GREST, con molto sforzo e con molta difficoltà, però mi sono impegnato, ci siamo impegnati, tutta l'amministrazione e anche i dipendenti comunali ci siamo impegnati per aprire questo GREST, perché è un segno importante per il nostro comune, ma soprattutto per i nostri ragazzi, che dopo mesi e mesi di solitudine il ragazzo per definizione deve rimanere, deve stare insieme, devono stare insieme, devono giocare, devono raccontarsi le loro storie, giocare, quindi riteniamo che abbiamo fatto questo passo importante, anche se con sacrifici e con tanta sicurezza e tante, diciamo, più che sicurezza e regole ben precise, ci siamo impegnati per fare questo GREST.